Buonasera a tutti, comuni mortali, qui è The Storm, Michael Thunder che vi parla, e questa notte volevo introdurvi la mia divina commedia, composta da Lars Angel, l'angelo della morte, che una volta Angelo Buono ha deciso di percorrere la strada del male, e poi Demonnate, un comune una volta mortale, che ha deciso di vendere l'anima al diavolo e diventare un demone. Bene sì, vogliamo sterminare tutta la razza umana, non ne deve rimanere neanche uno, noi porteremo su tutto l'inferno, tutto il purgatorio, e vi puniremo amaramente, da questa sera in poi, la divina commedia sorgerà, e vi distruggerà, pezzo dopo pezzo, qua di fianco a me c'è sempre mio fratello, Alan Crimson, perché lui, sin dalla nascita, è sempre stato presente, e lo sarà sempre, se ve lo siete chiesti. Lo sapete che lui è il general manager della Ribera Championship Wrestling, ma questo è un discorso a parte, il nostro business nella RCW, è un caso a parte, e cosa nostra non ne parlo questa sera, perché questa sera parlo della divina commedia, la mia divina fottutissima commedia. Non solo vinceremo i titoli, ma vorremmo anche le vostre teste, una dopo l'altra, e le appenderemo nel nostro inferno. Detto questo, una buona, o forse brutta, notte a tutti voi.